Ciao ragazzi, volevo fare un grosso, grosso e grandissimo saluto a tutti i tifosi di Cantù. Sapete benissimo che ci ho lasciato un pezzo di cuore qua a Cantù e siete stati per me dei tifosi assolutamente speciali e particolari. Vi avete sempre incitato nelle belle partite, partite così e così, quelle un po' meno e per questo vi sarò sempre di voto, grazie ancora. E' uno scherzo del destino che è proprio la prima partita, le prime partite del mio ritorno in Italia sia proprio contro Cantù e certe volte il destino non si può controllare, però per me siete speciali e volevo ringraziarvi e mandarvi un grosso saluto.